Fare cronaca nera non serve veramente a niente, perché ti fa entrare nella vita delle persone, ti fa scoprire le loro ferite, ti mette in contatto con il loro dolore più profondo, ma tanto se non lo puoi cambiare, che senso ha? Poi nella mia condizione questo mi fa solo stare peggio. A quanto vale occuparsi di cose leggere, no? Festival, rossetti, vestiti... Cinesica. Avevi ragione, sto sotto a un treno per Alex. Cioè, in realtà ci vorrei buttare lui sotto a un treno. Ma tanto ammetterlo, non lo riporterà qui. E tantomeno colmerà questo buco che mi sento nello stomaco. E quindi preferisco non pensarci, non occuparmi di altro. Lo so. Grazie. 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 Grazie.